in cerca parte 2 e vai in seguimento ai cani di nuovo che vanno a due frame all'ora però vabbè noi non ci lamentiamo giusto? stai buono tu stupido serpente allora lì abbiamo una fotografia bene ammassiamo tutti i regni come la raggiungiamo? allora il primo pensiero sarebbe salire su queste rocce ma avrei dato per scontato che non fosse stata la soluzione immagino esatto di poter fare altro qui ti giuro avrei bambino stupido ti devi levare avrei detto totalmente che non era la soluzione quella forza russel forza russelndolf dobbiamo andare dai ecco qua proseguiamo ah sto dicendo quella è un enorme cacca no è un frutto di quelli marci ecco qui fotografia eh lo so addio che pardone no prendi la farfalla la farfalla russel russel dio mio i comandi di test cioco prendi sta farfalla è qui ma perché sei stupido è qui maledizione a te e a tutta l'umanità non va più nessun tasto non vanno più i prompt perché lui è cretino voleva prendere il frutto ma poi era indeciso prendere il frutto la farfalla è un idiota insomma bravo abbiamo perso del tempo sicuramente il tempo anche in questa partita col cacchio che lo facciamo eh vabbè ecco qua andiamo intanto sì a quanti frame eh porca di quella miseria no edda ma perché anche io ero già dall'altra parte ah vabbè usa il tuo specchio russel ecco penso a te se devo farlo vai prendilo ecco qua pronto penso a te se devo fare le cose due volte perché siete scemi in due allora vai sto bene eccoci qua allora credo che di là io possa proseguire però già che ci siamo portiamoci in vantaggio tattico prendiamo più insetti della cpu ecco qua no l'ultimo è mio preso ho l'impressione che di là potrei andare ma non mi sembra di aver visto modo per appigliarmi in qualche modo quindi via stupido eh sì certo ne riuscite a buttarci in acqua in due con un colpo solo va beh che era un leoncione di montagna però ecco qua e i cani intanto stanno andando la mia casa non la vedremo mai più dai sto bene ecco qua e allora aspetta un attimo tu russel che così gli insetti eh aiuto se li fa tutti er nonno me li porto tutti in avanti ecco qua le priorità bambino che a terra la casa che è stata rubata e gli insetti abbiamo scelto ovviamente cosa era più importante ecco qua andiamo a prendere l'altra no no ecco qua eh usa il tuo specchio dammi un minuto bene allora uno due e tre ecco fatto proseguiamo aggiusto il rampino con russel cerchi per usare il tuo rampino ah e in pratica diventa una corda portatile a parte che è un vecchio con un salto del genere si sarebbe spaccato non ti dico solo l'anca però un bel danno ecco appunto vai via un bel danno se lo sarebbe fatto eh le texture le texture allora io intanto ammazzo il serpente ecco qua sento ah ecco dicevo sento rumori fermalo ecco qua vabbè prenditele gli insetti tanto sono in avanti io sono più avanti di te e non lo state tutto non ne ha preso manco mezzo mentre non lo stavo guardando bravo russel poi perché ha preso il frutto adesso non lo so però meglio vabbè proseguiamo ecco uno e due vieni perché perché non ti sei andato eh vabbè quando dici tu eh aspettiamo che torna anche l'altro tanto guarda lo sapevo che sarebbe tornato faccia di merda prendi succe madonna mia allora un attimo via stupido sono sfinito ho bisogno di cibo stupido coso ecco qua allora a proposito di cibo mi servirebbe effettivamente un frutto non ce n'è non c'è un frutto da queste parti mi sembra di no perfetto allora russel vai tu va bene va bene ci vado prima io allora qua qui che poi non penso ci sia differenza chi vada prima chi vada dopo l'unica differenza è che il secondo sempre si trova davanti i pipistrelli allora aspetta fai passare il pipistrello ecco qua da questo lato facciamolo ripassare ecco fatto aspetta che passa anche questo facile tra l'altro qui sulla destra eh ho visto una fotografia come la raggiungiamo non ce la faccio eh non ce la faccio lo so oi 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 la telecamera mi serve un frutto eccolo qua perfetto grazie allora vai tu mi sa che esatto dobbiamo fare la mossa tenaia qui bravo lanciamo la fune la fune ah no non serve scherzavo sto bene vabbè ah c'è una grotticina qui vedo allora aspettami un attimo russell aspetta un attimo lì che il nonno deve prendere la fotografia eccoci qua dai come hai fatto vabbè sali su dicevo come hai fatto a cadere di sotto scemo vediamo cosa si nasconde qua dentro forza russell iiii pepisterelli di merda fammi andare a prendere la farfalla ok lì vedo pepisterello lì c'è l'armadillo e ecco scappa perché il pepisterello t'accope forza di qua dai ma perché non ti muovi vabbè va va a cagare dai addio eccoci qua allora eh ho visto bastava che saltavi un po' più in lungo e ci arrivavi ecco fatto proseguiamo andiamo a prenderci il frutto sì tanto la casa sta venendo rapita al tutto tempo io me la prendo comoda il frutto è scomparso vero ovvio dai dirti se i pepisterelli smettessero di rompere le balle ecco fatto muoviti no dai Russell madonna mia l'esistenza umana però io non ce la faccio più eh te lo sei meritato sei un idiota dove vai dove vai che senza frutto non ti muovi dio mio dove vai cretino ecco qua madonna mia forza forza Russell allontana sti pepistrelli delle balle eh ben fatto se giocaste assieme invece che giocare per i cacchi vostri ognuno credo che le cose andrebbero un pelo meglio no no e dai non abbiamo tempo per gli insetti del cavolo forza va bene tutto però abbiamo il roccione sei un idiota sei un idiota te lo sei meritato di cadere di sotto forza ok pregiare la farfalla d'accordo eh d'accordo ma se ti muovessi dio mio ma va bene questa è colpa mia è ok l'altra ma guardalo è un idiota è un idiota sto bene forza andiamo va bene muorici affanculo Russell voglio abbagliare il cane dite che ce la faccio sembra che ci abbiano portato nella loro tana ahah seguitemi beh anche io ho riso per la voce del cane dai non era neanche credibile allora otto farfalle ok le foto un nuovo campionato ciao 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 ciao